Bene ragazzi eccoci a un nuovo episodio di Tales of Arise. Adesso nell'altro episodio abbiamo completato per quanto riguarda i pesciolini. Mi ho presi tutti i guanti, mi ho sbloccato la canna finale, con cui è molto più facile fare tutto. Adesso prima di continuare con la storia vogliamo andare a mangiare da qualche parte. Oh, hey guys, I don't see any of our food. What? I know, the bag we kept it all in has vanished. Some zo- What? Huh? This affects you too. What? How could this happen? Those sweets are the highlight of- Hunger is like that. The moment you know there's- Whoever did this. La? What? Hey, don't look at me like that. I picked this apple my- Food. Hand it over. Food. Hmm. Hey, I'm back. Uh. Only a pointed reminder of how dangerous a food short. I- I see. Does it have anything to do with- AAAAAAAAHHHHH! Carina. Allora. Dobbiamo fare il sushi. 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 Sushi, sushi. Sushi. Incrementa l'effetto. Più 30. Addirittura. Quando? Sushi. Sushi. Ma ce la fai a muoverti? Il menù della metà. Buono. Nessuno che si fa i complimenti da solo. Sì, facciamo l'up. Scusate che tu avessi chiesto il tuo padre. Cosa ha portato questo? Ancora, c'è... Cioè, sì, ma... Come... Cioè, la cosa che voglio... Cioè, come abbiamo incontrato la mia mamma... E come abbiamo avuto una volta? Eh, comunque... Hai certo. Stai dicendo. Io solo spero che c'era qualcuno che... Sì... Tutti e due devono conquistare una donna. E non sanno come. Ok. Allora... Vogliamo andare prima dove stavano i gufetti. Per vedere se ci devono qualche altra cosa. No, non c'è una mazza. Che piccolo bastardino. Quindi che fa, ma... Ne mancano uno. Sì... Mancano uno. Io pensavo che ci desse qualcosa. Allora, facciamo così. Vediamo se riusciamo a beccare gli altri. E dovremmo andare dove stanno... I troni dei lord. Problema che non ci sta qua. Punto dove atterrare. Senza dovermela farmi la piedi tutta quanta. Niente. Quindi stanno sedute sui troni. Tranquilla, Amanda. Allora, facciamoci il resto. Un'im嗎? Un'imagine che dovremmo faci... Tutti? 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 i droni i droni ecco l'altro io devo sapere sti cosi che sono il palazzo 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 Ah, vedi? Consente di trasferire denari e oggetti nella nuova partita a più, dopo aver completato il gioco. Ah, sono buoni. Ok, del gufo me ne manca uno, questa è in una missione, che non so se riesco a fare, perché quello è a livello 60, sto a 55, dovrei salire un po', o vado avanti un po' con la storia nel frattempo, sperando di salire. Ah, vedi? Nell'isola deserta dovrei andare, ma secondo me conviene che andiamo qua e continuiamo il viaggio. Allora, è rimasta qua, che devo fare l'altro lato. Oh, e questo cos'è? Vi stanno fatato. Un momento misterioso. Tempo di lancio meno 20, hai capito? Però questo è buono. Questo B ha di mezzato 20. Eh, questo lo potrei far fare alla maga. Tempo di laggio meno 20, buono. Vediamo l'altro che cos'era. Questo PC arte. Ah, questo è proprio per l'arte. Attacco elementare più 60, non sono deciso, sinceramente. Tempo di lancio, no, ma è meglio il tempo di lancio, che è più veloce. Infatti cercavo qualcosa per la magia. Dopo per la maghetta. E' appena male, gli altri più o meno li ho fatti, gli ammoliti. Ah, guarda, è bello lungo questo. Ah, sono gli alcuni. E' la parte negativa di noi. E' la parte negativa di noi. Mi fanno le alternative per non far morire Shion. Infatti, non è parlare davanti a lei? Ma iniziano con i video ht. Non, ma mia. No. Ma vediamo dove ci porta, anzi fammi salvare. Ah, giusto. Qua sì, sono nella scensura. Quindi siamo saliti, dobbiamo andare a uscire. Io non capisco mai se salgo o scendo. Felisir. Vedete che fra un po' abbiamo finito di mangiare. A manda di qua, vediamo se qua è finita. Interessante, stanno le dame. Ancora sti anelli qua che non servono a niente. Io mi faccio l'anello da 5, perché metto 5 slot di abilità nel frattempo. No, quello di 1. Che me ne faccio? No, così torno indietro, non lo di qua. Sangue di drago, ecco dove era sto sangue di drago. Lo dovevi venire a fare qua, al bastardino. Mi sa ancora che ci sta qualcuno che vuole sangue di drago per fallearmi. Ok, non ci sta nulla. No. Fammi salvare. Dai, tanto che ce ne ho molte di vita. Anzi, di punti cura. Oh, quanto è bello! Guardate i miei oggetti. Frammento misterioso di uno, che me ne faccio? Vabbè, che oggetti mi danno? Niente. Fammi di insulci. Evocazione di entità speciali, cioè? Che vuol dire? Questo PC art è meno 20. Ma, che cavolo? Boh. Non ci posso fare niente con questi che sono di livello 1. Vabbè, ma ho spiegato tempo per niente. Un quadradure lo devo fare quello là di... Per forza. Quando sono arrivata? Ah, è quasi finito. Devo spicciare, devo andare a mangiare. Per forza. Ho, mi piace. Praticamente un blu. Stato con il tuo marxamano, Grazie a tutti. I know the Great Spirit's will is in the center of Rena, but with the world in this state, so doesn't that mean we're... I would say that is horrifyingly correct. After all, the further we climb... What's the matter? No, it's nothing like that. It just feels like the energy here is a little... You mean Rena's energy? Yeah, it's like when I made contact with Dana's will in the wedge. It's almost as though I can... But Rena's will is supposed to be a lot stronger. Aren't we risking the Great Spirit controlling... I don't think we have to worry about that. Rena's will is only supposed to control true Renans, like the Helganquil. If we can discern what the Great Spirit is thinking, too, we might learn something. Are you insane? Renwell, you're gonna... Renwell! A here is the team. Renwell, let's see. Ressa... Ressa? Ressa? A little bit of reason? A little bit of love. Ressa? 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 ma vabbè tutta sta manfrina per dire che c'ava paura completare il mondo ma cosa significa un mondo? non lo so, ma la sua wille è chiaro questo è quello che il grande spirito sta cercando l'unico problema è che da Renna's energia non è diventata come Danna sembra che sia diventata quindi sta cercando di adorare Danna mentre ancora può so che possa forciare i due planeti a unire il grande spirito è ma non è scoperto come una persona rationale è più ricca e indilutibile come un animale, attraverso l'intensità ma non ha senso sta cosa plausibili su cosa? per salvare se stesso c'ha paura di morire che c'entra unire i due pianeti? eh, grazie, è un parassita, l'hai capito ancora adesso? grazie 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 no, verremmo anullati tutti quanti, ma che stia di – la ha fatto vedere che cosa è successo all'altro pianeta Alla prossima As for which is correct, well, I'm not sure it's our place to even say Still, I- Dichotomy? Those who know not satisfaction are driven to keep devouring without limit But those who are content with their lot in life I imagine it's likely that the larger Renna's great spirit grew Everything in moderation When all's said and done, maybe that's the hardest thing Wow Sempre più assurda sta storia Cioè, da moda, l'energia astrale Che sarebbe quella negativa Sono passati all'energia astrale dei pianeti Beh, ma io non ho mangiato niente È già finita la roba da mangiare È un peccato Alla prossima Alla prossima Siamo arrivati quasi alla fine, penso Eh, dove ci fermiamo a mangiare qualcosa? Tu vedi un falò? Non ce la facciamo arrivare a 57? Ah, siamo arrivati Che abbiamo finito questo lato Quanto pare Ma che Non finiamo più qua Non finiamo più qua Ma abbiamo finito queste stanze che si salgono Basta, mamma, che noia 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 E le trasporto. Perché vai in una stanza a sé? Ma è vuoto? Ah, interessante. Dov'è qua? C'è il bossetto di turno che ti dà un oggetto super mega raro? No, non ci passi in mezzo. Ah, ok. Ti dà un oggetto peggiamento adeguato? Penso che sia... No, vabbè. Non è manco così alto. Allora. 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 Grazie a tutti. 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 No, io voglio farla vedere. Che succede? Che è successo? Ma perché? Che si è rotto? Non ho capito che si è rotto. Voglio un posto dove salvare. Ok, qua sicuro. Ok, perfetto. Ah, quindi non me lo fa fare. Devo ammazzare tutti quei bastardi. Niente, quindi mi tocca farlo. Ecco che cosa si rompeva. Ma che cosa si rompeva. Me le devo fare tutti quanti? Ma mi consumo tutte le arti. che ha già fa? Che peccato farmi tutte ste cose senza poter aumentare di livello. che si rompeva. Ok. Allora, lui va bene. Ma che ti devo dire? Andiamo al secondo. Credo che uno bello grosso, ma almeno è solo uno. Ah, perfetto. E' il drago con quello. Ok. Ciao. Ciao. Wow, che cos'è quella cosa? Abbiamo un miniboss, chissà che armi ci possiamo fare, questo quant'è? 56, noi ci siamo 57. Eh, l'ho intenzione di fare tutti quanti. Questa è l'ho intenzione. Questa è una bella cosa, si sfonda. Ma, 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 ho fatto lo limite. Dai. Questa è l'ho intenzione. 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Bello sto mostro! Mi piace! Cosa ci sarà mai dietro di lui? No! È un secondo livello! Bastardo! Che palle! Ma... Due palle! Vabbè, che cos'è sta cosa? Aiuto! È orribile! È orribile! È una cosa che striscia! Lo sfondamento mio non serve a una mazza! So, che fa? Arte di magia, che fa? Ma è comunque a poca resistenza perché l'abbiamo già semi-ammazzato? Meno male! Anche è inquietante sta cosa! Quindi immagino che pure quell'altro mini... Eh, questo fa è raggio laser nero! E ok, andate al limite! No, 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 no! Ripigliati! Dai, muori! Madonna mia! Basta, eh! Sei finito! Ok! Non mi viene angoscia ormai! Quindi immagino che boss finale ce l'abbia a meno... Tre! Evoluzioni? Abito nuziale, ok! Questo è di sci-on, sicuro! Mamma mia! Pesante! Beh, come ci arrivo a 60? 57? E se c'avevo da mangiare qua mi aumentava tutto il cuo, se invece non ce l'ho... Questo mi stesse quando lo devo fare? Ma mi manca l'ultimo che sarà un mini boss da due livelli? Mamma mia! Ma quello che più mi dà fastidio è che non c'ho manco una ricetta attiva in tutto questo! Sai quanto potevo fare di esperienza nel frattempo? Vediamo se abbiamo sbloccato qualche cosa... Grazie a tutti. 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 Un'altra? No, no. Allora, il bagnino in posto era solo quello là. Dove? Ce l'ho lì. Ma si dovrebbe si bloccare? Ok, attivato. Ok, attivato. 57. Possiamo andare a mangiare. Allora... Posso dover mangiare? Posso dover mangiare? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 andiamo a lui da potevo fare questo che era più alto grazie a tutti grazie a tutti bene ragazzi io concludo qui il video mi rifaccio di nuovo il passaggio che ho fatto adesso e adesso ho mangiato quindi mi aumenta l'esperienza e faccio arrivare almeno a 60 poi vedo se invece di finire la storia mi finisco le missioni che stanno in giro quindi per adesso chiudo qui se vi è piaciuto il video mettete un like se volete continuare a vedere come va avanti la storia iscrivetevi al canale ciao 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 Grazie.